da quel punto di vista da quel punto di vista di rivelare un'ottima forma per il corridore ma anche ad esempio l'altro giorno la Parigi inizia nella prima volata si è fermato a 10 centimetri da Dylan Gronewegen e non è una sciocchezza fare finire le volate a 10 centimetri da Gronewegen poi arriveremo anche a Gronewegen nel parlare di velocisti note dolenti le note dolenti esatto questo è un corridore a cui il cambio di casacca onestamente sembra aver fatto bene noi ne avevamo parlato l'anno scorso quando parlavamo di mercato avevamo parlato di scazzi estivi primo ti ricorderai ti ricorderai bene parlavamo di un corridore che aveva vinto un genero d'arte un genero d'arte un genero d'arte che aveva vinto pochino durante durante l'anno poi dopo c'era stata tutta la querelle con la squadra che lo aveva lasciato fuori dal torto di fatto lui per due mesi non ha più corso e poi insomma le prestazioni sono state quelle che sono state nel finale di stagione dell'anno scorso è ripartito con le pile decisamente cariche Caleb Iwan e appunto la volata dello scorso anno lascia pensare che sia un cliente pericolosissimo per tutti quanti per chi non se lo ricordasse l'anno scorso non ha vinto la volata del gruppo ha letteralmente staccato gli avversari durante la volata non so se ti ricordi prima sì ci si pose anche il problema relativo al piglio con cui quella volata venne affrontata perché in tanti dopo dopo tanti chilometri di sbattimento sapevano che si competeva per il secondo posto però non credo che un secondo posto alla Milano saremmo sia il risultato su cui tanti sputano quindi secondo me quella volata è stata affrontata seriamente Iwan in quella volata è risultato dominante personalmente ne è rimasi particolarmente stupito se non altro per il fatto che è corridore che non presenta in curriculum delle eccellenti prestazioni su lunghi chilometraggi però qualcosina c'è perché il Giro d'Italia 2017 la tappa che arrivava ad Alberobello 224 chilometri volata su Gaviria su Sam Bennett quindi qualcosina effettivamente c'è a quella volata ad Alberobello si somma la prestazione dell'anno scorso secondo me corridore che è in crescita una volata come quella dell'anno scorso può assolutamente replicarla Primo vuoi parlare prima delle eccezioni o prima delle note dolenti parliamo prima delle note dolenti parliamo prima delle note dolenti e veniamo e veniamo a Dylan Kroenewegen adesso se quella su Viviani era una domanda difficile e la tua risposta ti ripeto mi ha lasciato impressionato adesso veniamo a una domanda ancora più difficile perché verosimilmente Dylan Kroenewegen non sarà al via della Milano Sanremo ad oggi i suoi programmi dicono che non ci sarà bisogna prendere un telefono chiamare in casa l'otto e nel giambo e ottenere una risposta che sia risposta esaustiva alla programmazione di questo ragazzo devo riportare le parole di un mio caro amico si chiama Giacomo i nostri ascoltatori sicuramente lo conosceranno che pomeriggio ha detto ma che cosa gli costa portarlo al via al limite lo buttano in mischia si stacca sul poggio pace cioè effettivamente che male può fare a Dylan Kroenewegen partecipare alla Milano Sanremo provare a superare quel poggio cioè che cosa gli cambia nell'economia della stagione in un percorso di preparazione che l'abbiamo detto anche in passato analizzando le ruote veloci abbiamo fatto una puntata l'anno scorso se non sbaglio c'è un obiettivo Paris-Giroubaix c'è un obiettivo di crescita graduale di questo corridore il ragazzo che ha vinto il Fiandre Under 23 che cosa cambia cosa cambia è un delitto è un delitto è delittuoso non schierarlo al via è delittuoso è delittuoso guarda secondo me lo era l'anno scorso cioè eppure ci dicevamo ma sì si vede che insomma la preparazione a cui è volto lo porta di più verso verso altri tipi di corse poi quest'anno ad oggi ma nei suoi programmi non solo non c'è la Sanremo ma non ci sono neanche il Fiandre e la Rube lo stanno dirottando verso l'essere un velocista nudo e crudo penso che si capisca cosa cosa intendo però in che modo per un corridore di queste caratteristiche la Sanremo è preclusa io lo so che lo è stata preclusa per Kittel ad esempio che ci ha provato ha fatto una figura a Barbignan ma 100 Kittel piuttosto che un Kronewegen non so se è colpa sua ma almeno Kittel ci ha provato è venuto al mio Sanremo ha detto vabbè io non ce la faccio cioè quei chilometri lì sono troppi per me il capoberto è troppo duro per me Cavendish l'ha vinta la Sanremo Cavendish cioè un altro corridore che è monodimensionale bravissimo in quello che fa era ma pur sempre monodimensionale cioè non che se tutto va per il verso giusto dovrei essere da quelle parti quindi non so questa sarebbe la mia unica certezza ad oggi quindi non escludo non escludo che tra le altre cose salti fuori il sorpresone che qui si è visto anche vinca un corridore del team Lotto e nel Jumbo però in questa sede non possiamo fare a meno di sottolineare che in una squadra di sette uomini uno come Kronewegen perché peraltro ha buttato dentro che guarda il roster della Jumbo chi è spendibile fai fare l'azione a Roglic non so neanche se ce l'ha nei programmi che cosa fai metti Danny Van Poppel che è un corridore di cui vi ho rotto l'anima è un corridore in crescita bravissimo eccetera chiunque ok si può vincere la corsa ma perché precludersi questa possibilità a livello di possibilità precluderla secondo me è sbagliato in un senso se poi dall'altra parte prendiamo anche il discorso che fai più a tutto tondo e io sinceramente ti seguo a ruota cioè di capire per bene ok crescita graduale ma cosa fare di questo ragazzo cominciando a eliminare la Milano Sanremo quando quando praticamente lui ha 24 anni 25 anni io onestamente non lo so su gestione olandese che a volte mi sembra assolutamente pertinente sul pezzo acuta ripeto non riesco a spiegarmelo vengo alla battuta che ho fatto in precedenza occorrebbe alzare il telefono chiamarli e dirgli spiegatemelo perché probabilmente avrete una una chiave di lettura che è assolutamente corretta però fornitecela perché con gli strumenti attuali non si può non individuare questa scelta come non classificare questa scelta scusate come una scelta dissennata sì sì tra l'altro stavo stavo guardando cioè quel giro delle delle fiandre lo vinse su corridori comunque di buon livello cioè lo vinse su schierping e no non mi rivolgo lui quando farò di corridori di buon livello ma terzo e quarto furono Tish Beno e Owen Dole ha mostrato veramente di poter mettere in campo delle qualità per le classiche in passato e tra le categorie giovanili ma se non è detto che debba essere così tra tra i professionisti e in tante volte e così effettivamente non si riesce a confermare quanto sia fatto tra i giovani tra i pro almeno fatelo provare questo ragazzo magari chiudo con un punto ma la corsa di settimana passata vinta da Bobby Unger se ce la ricordiamo è il campione uscente di L'Angrone Wegan quindi sì 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 la corsa sì sì è vero lo si vuol rendere velocista piatto ma al momento lui dimostra le caratteristiche che rendono una forza dura farlo diventare una velocista piatto quindi davvero rimango sorpreso dai passiamo passiamo alle eccezioni dopo le dolenti note le eccezioni che sono costituite in un certo senso eccezioni in realtà non lo sappiamo ancora adesso adesso ci arriviamo dalla Bora dal duo Bora non si sa no vabbè la Bora risponde a un nome che è quello di Peter Sagan giustamente però in teoria ci dovrebbe essere al via anche Sam Bennett un corridore che ridendo e scherzando nell'ultimo anno ne ha fatti gli scalpi in volata e arriva a correre la sua prima Sanremo insieme a Peter Sagan in teoria per quanto riguarda la squadra ci sarebbe anche Pascal Ackerman che però non dovrebbe essere al via la presenza di Bennett come può essere interpretata ti tocco sul vivo come può essere interpretata primo cioè è un lascia passare a Sagan è un modo di non devi fare il doppio gioco cioè non devi sia essere quello che stacca tutti sul poggio o comunque porta via un'azione sul poggio sia quello che se la gioca con noi per noi se arriviamo in volata allora devo anzitutto accertarmi non voglio manifestare scarsa fiducia nei tuoi confronti devo innanzitutto accertarmi del fatto che Bennett sia veramente al via della della Milano Sanremo è indicata tra i suoi programmi sì sì non abbiamo ancora start list ufficiali ok secondo me non esiste un dualismo in casa Uae non esiste neanche lontanamente un dualismo in casa Bora è l'unica l'unico senso che può avere la presenza di Bennett la scelta di Sagan può rispondere alla logica a una richiesta di Sagan di avere un uomo che possa assisterlo nel caso di una volata finale ogni tanto lo ha fatto Selig in alcuni contesti solitamente Sagan è uno che è bravo a caparsela da solo spesso sceglie di daversela da solo a te più migliori la crescita di Sam Bennett può essere stata colta da Sagan come occasione per avere un uomo che nel finale possa assisterlo e magari in questo senso ha trovato supporto in Pacivilla sempre che l'idea non sia venuta direttamente a Pacivilla con cui c'è grandissimo feeling è interessante questa cosa cioè secondo te quindi quello che mi stai dicendo se ho capito bene ti chiedo conferma cioè da presenza qualora dovesse essere confermata considerando che appunto la start list ancora non l'abbiamo in mano è esclusivamente in appoggio a Peter Sagan in caso di volata onestamente sì Giacomo io la penso così cioè io non credo che possa esistere un'alternativa a Peter Sagan almeno fino a un'ora fa cioè fino a prima che arrivasse da la notizia del fatto che Sagan pare sia debilitato da un virus intestinale che lo ha tenuto fermo cinque giorni eccetera non riesco a immaginare un'alternativa all'andare tutti per per Sagan e non riesco quindi a ritagliare a Hassan Bennett un ruolo diverso anche perché Giacomo il poggio è un punto su cui Sagan ha fatto l'azione in passato nel caso di azione sul poggio quell'azione riesce ad andare il problema si risolve nel caso in cui l'azione sul poggio non c'è la volata non può che farla Peter Sagan Bennett che utilità avrebbe nel caso di un'azione sul poggio da parte di Sagan azione che viene riassorbita in discesa o su piano fino a via Roma e magari Sagan ha speso troppe energie e Bora considera che la volata è meglio farla spare a Sam Bennett mi sembra un po' arzigocolato come scenario prevedibile invece secondo me è proprio questo fondamentalmente potrebbe essere interpretata poi dopo magari tu mi dici no secondo me conosci il contesto meglio di me se non altro per la passione che ti muove potrebbe essere interpretata come una scelta di dare solo di dare a Sagan completamente carta bianca cioè vuoi giocarti tutte le tue carte sul poggio come hai fatto nel 2017 ma senza nemmeno avere la preoccupazione di metterti nella testa che ci possa essere una volata dopo abbiamo un cuscinetto su cui cadere è chiaro che il capitano della Bora alla Milano Sanremo modulo le condizioni di salute sarà Peter Sagan questo penso che nemmeno un folle sarebbe disposto a metterlo in discussione non sono certo io quel folle comunque dicevo potrebbe essere interpretata così capito come semplicemente un'assicurazione che viene data a Sagan cioè fai quello che vuoi non ti preoccupare per la volata perché qualcosa c'è qualcosa che comunque non fa così tanto schifo come si potrebbe pensare anzi Bennett come detto scalpi ne ha fatti non lo so Giacomo non lo so perché ti ripeto mi sembra arzicocolato come scenario nel senso che Sagan è uno che tende a essere un accentratore e quindi secondo me Sagan al di là di pianificazioni che secondo me quest'anno devono essere necessarie ma questo poi è un altro aspetto che magari affronteremo in un altro momento sai che è utile la personale mia sul punto secondo me non non dico che non accetterebbe però non si metterebbero a prevedere questa alternativa peraltro Giacomo guarda mi viene in mente una cosa adesso così in freestyle tra me e te io sono quello rincoglionito tu sei quello sveglio il gruppo non è un gruppo di direttori sportivi rincoglioniti ma un gruppo di direttori sportivi svegli e di gente in grado di seguire Sagan sul poggio c'è stata in passato e quest'anno ce n'è ce n'è ce n'è di gente io dico una cosa se sono svegli una lettura come la tua potrebbe essere condivisa da altri e questo se prendiamo per buono una lettura come la tua renderebbe un po' telefonata l'azione di Sagan sul poggio o quest'azione benché telefonata va via con una potenza che deve essere una potenza ancora più devastante di quanto si è vista nel 2017 oppure la storia recente ci insegna che sul poggio l'astuzia a volte funziona meglio della potenza quindi io onestamente ho difficoltà a prendere per buona questa lettura ma ripeto è un indizio comunque ed è un aspetto su cui occorre ragionare perché nel caso in cui Sagan voglia a Bennett per giocarsi la volata apre la possibilità apre comunque degli scenari di speculazione interessanti perché un Sagan che decide che sia la volata la strada da seguire per vincere finalmente la Milano Sanremo è una cosa che mi lascia perplesso onestamente questo rischierebbe di aprire ti ripeto un capitolo che è un po' scantona diciamo dalla volata lunga che abbiamo deciso di fare con la lettura della volata come scenario possibile della Milano Sanremo ci porterebbe fuori tema dico soltanto che al punto in cui siamo secondo me non è la migliore delle scelte per portare a casa bene siamo arrivati al termine di questa volata lunga slash azione da finisher all'Andre H. Mill in vista della Milano Sanremo 2019 versione gentleman però senza versione gentleman aspetta di sentire i titoli di coda di coda